La mostra del gruppo femminile Calcit presso l'atrio del palazzo della provincia di Arezzo ha fruttato 14.270 euro. Nel periodo in cui è stata aperta il gruppo femminile animato dalle signore del Calcit ha messo all'incanto oggetti di grande pregio, accanto a piccole cose adatte, come abbiamo più volte sottolineato, anche per le prossime feste di Natale. A Natale se tutto va bene ci sarà un altro step, ma quello che è certo è che la mostra della ripartenza, così possiamo definirla, visto che c'era stato un lungo stop dovuto all'emergenza sanitaria, ha segnato davvero una grande rinascita, ma soprattutto un incasso importante che servirà per solidarietà, ovvero per sostenere il servizio scudo di cure domiciliari. Adesso il prossimo appuntamento è per il periodo natalizio.